Una gara avara di emozioni e palle gol, ma in cui la matricola Grumentum ha la sua prima storica gara in Serie D, riesce a sfruttare al meglio forse l'unica vera occasione del match concessa dal Gravina. Finisce 1-0 per i padroni di casa grazie al gol dell'ex potenza e il match contro i gialloblu che tornano a mani vuote invece dal cupolo nonostante un buon primo tempo. Santoro in panchina per lo seto con Bozzi, bomber già entrato nei cuori dei tifosi gialloblu, punta centrale al fianco di Chiara D'Eficara. Pronti via e Donini, estremo difensore di casa, ritarda il rinvio e per poco non si fa beffare dall'intervento di Bozzi. E' Chiara D'Ea a servire ancora l'attaccante barese, ma il suo anticipo con il piatto finisce alto, gara lente con pochi squilli, tranne quello che arriva proprio poco dopo la mezz'ora. Potenza approfitta di una disattenzione difensiva del Gravina per portarsi avanti la palla di testa e di insaccare praticamente a porta vuota per lo storico gol casalingua la prima del Grumentum Valdagri in serie D. La replica a ospite non si fa attendere ed arriva con il bel tiro di Ficara, però rimpallato. Allo scadere Bozzi a destreggiarsi bene di testa, ma la sfera è fuori di poco. Nella ripresa ti aspetti una reazione della squadra di Loseto, reazione che però non arriva anche per i ritmi molto bassi imposti dai padroni di casa a difesa del prezioso risultato per segnare una prima azione degna di nota. Bisogna attendere la mezz'ora quando Chiara D'Ea ci prova con una conclusione però alta. Il nuovo entrato Bongermino per il Grumentum prova a mettere il punto esclamativo sul mezzo, ma il suo tiro è deviato in angolo. Il Gravina cala ancora ad intensità e si spegne con il passare dei minuti. Ultimissima occasione a tempo scaduto arriva con il tiro di Losavio, appena entrato, che finisce però sul fondo prima del tripice fischio finale. Amaro in bocca per i gialloblu di Loseto, spesso padrone del campo per lunghi tratti del match, ma puniti nell'unica vera ingenuità. Domenica prossima si torna tra le mura amiche, al vicino infatti sarà la volta della sfida al Sorrento.